Aspetta, ditemi il livello dell'Aaaaaaaaaa! Stavo appunto dicendo Datemi i livelli dell'audio E ditemi se ne sono apposto il mio audio, quello di Luca Devo urlare per caso? Sì, devi urlare, Aero Comunque sia per i nuovi, perché ci saranno forse dei nuovi, non lo so Trey Riders, io sono Dado, quest'altro è Luca Sì Sì Ah, accettiamo l'invito di Luca, carica, salvataggio automatico? Sì, 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 dovrebbe essere l'ultimo Ok, sì E meno male c'è proprio perché... Mi sono preso un colpo, penso Dado vorrebbe partecipare, accettare Dado sta per partecipare Ma sarà meglio, sennò io ti spacco la faccia, Luca Non so se hai capito Comunque sia Ecco a dire Mi piacciono questi cali di frame, sono proprio adatti alla live, no? Eh, la live è ferma Sì, no, sto vedendo, sto vedendo Ma prima devo abbassare le... la qualità grafica perché... non posso dire perché il live... Sì... Perché mentre stream forse ultra non ci arrivo Sì, il flammecchia, appunto, loro vedono Sì, sì, ora, ora, giusto per me, poi è giusto per loro Ora facciamo così Anche a me aveva dato questo problema la volta scorsa Facciamo così Ok, ora dovreste vedere il coso Ok, se togli la pausa posso vedere se è fluido, caro Luca Oh, ok Ho il dubbio di non poter altabbare senza che arrivi Cosa sta... Eh? Oh no! Oh no, comandi invertiti! Non mi piace! Ah no, eh... no, no, esci da lì Esci da quella... c'è una stanza lì maledetta, lo so, me l'ho fatta anche a me Che cazzo? Ehi, è il mio nome, ma chi ti ha chiamato? Il terzo senso lo che ricordi, eh? Eh sì, eh sì, sì, sì Sì Eh, Luca, io non so cosa dire perché non mi fa uscire dall'alloggio Se riesce a uscire... allora, i cadavie e le macchine esplose non è colpa mia Ok, niente, devo giocare con mouse e tastiere Ma sei pazzo! Ma sei pazzo! Smettila subito! Allora, intanto alzo un pochino il volume perché è abbastanza... cioè, sono stato un po' drastico nell'abbassarlo Quando giravo nude uccidevo tutti Allora, chi si è perso le score? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai, Luca? Eh, ho sbagliato il pesaggio, scusa Quali sono i tasti del... Do the mouse sinistro Eh sì, no, per selezionare le armi Rotella Ah, che scomodo Allora, dicevamo... Tu non hai visto dietro di te! Dietro di me Eh, boh, è passato la macchina e esploso tutto Ah, non male Allora, stavamo dicendo Eh, che sto finendo tutte le munizioni di questa bellissima arma Luca, cosa si fa... aspetta, voglio farvi vedere questa roba qua Hai... i calamari? Sì, è bellissimo Tra l'altro, non ricordo se nella scorsa live li avevi di Elsit Mh, non lo so, non lo so Ah, Luca, Luca, Luca saliamo in la macchina! Saliamo in la macchina! No, ho preso un tizio io! Come si sale? Eh, ok Ciao Luca Ok, vai vai vai, parti 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 Che cazzo? Ma siamo impazziti, ma siamo impazziti Allora ti metto... accetta la missione Dato, Dato, Dato Grazie di avermi avvertito prima Comunque sia, per chi non l'avesse visto le precedenti live, questi sono i nostri personaggi Dato, devi muoverti Ora guiderò al contrario per far rrrrrr Ok, facciamo finta che conoscete già i personaggi, ah Dato, cazzo! Dato, cazzo! Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Beh, una macchina contro un carro armato Eh, vinco io perché sono fortissimo! Scusa! Proviamo questa moto, Luca Dove sei, Dato? Qua L'ho Dato No, aspetta, però bisogna fare una cosa Eh, da notare che abbiamo... Ma, perché sono caduto io? Da notare che entrato abbiamo dei vestiti interessanti Non so se siano permessi da Twitch, sinceramente, ma... Non importa dettagli! Io però ho un gattino rosa sulla schiena È incredibile Allora, dov'è che dobbiamo andare, Luca? Dato! Eh, dalla missione non aspetta Riaccetta Sì Dall'altro lato Sì No, è troppo silenziosa questa cosa Ma perché fai le cazzate? Dall'altro lato, dato Sì, con la tastiera non sono abituato a guidare, scusa Ho notato Bassa un pelo, Luca? Ehm... Lo faccio subito, un attimo, voi non vedrete più niente, allora No, loro vedono il menu Allora, lo mettiamo al 100% Ok Ah no, non è vero, loro non vedono il menu Vai, vai Loro vedono il gioco fermo Sì, no, perché ho il tabato Sì, infatti Ma lì c'è un uomo morto, perché c'è un uomo morto lì? Non fare domande Luca, dobbiamo, dobbiamo sapere se sta bene, aspetta Non ti preoccuparti Ma sei pazzo? Ti hanno rivestito Signore, sta bene? Non mi sembra stia... E' il tizio che ho preso a pisellate prima Signore, signore Signore Le sue gambe E' il tizio che ho preso a pisellate prima Signore, le sue gambe non... Signo... Ma questo perché mi picchia? Signore, le sue gambe, per fav... Lascia che le diano a mano Oh no! L'ho visto volare! Ma cosa... Cosa sto facendo? Oh no! Stai usando un'arma che non credo a tu... Sta twercando fortissimo Da me no, da me fermo Va bene, allora Io... Sta bene, sta bene Credo di aver recuperato un po' di macchine, Dado Sì Prendiamo la moto della polizia, Luca Vieni qua! Luca Luca Non va... Non funziona... Luca, per favore Vabbè, Luca io me ne vado per i cazzi miei, eh Dado... Dado Mi sa che è esploso una macchina Andiamo Mi sa Mi sa che è esploso tutto in realtà Ah, qua abbiamo scoperto un negozio di armi Ma va... Dado 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 Si coltta Dado Dado Cosa lanci? Cosa lanci le granate E' un pazzo Eccolo Luca se fai finta di niente la polizia non lo nota Ado ricorda di togliere la radio Come si toglie la radio Luca? X e C Devi scorrere fino a che non vedi il divieto Ok Grazie Artic Peccato che dovevi girare Tu hai visto niente Luca? Credo che ci sia qualche pedone Ma guarda Io non sto vedendo nulla di strano Possiamo prendere l'elicottero Scendi Dado E' niente Dado dove sei? Non sei Dado Luca per favore Luca ho il culo in posizione pericolosa Per favore Solo oltre il muretto Vieni su Dado corri ora Corri via le basta macchine Corri Luca Corri che c'è un tizio Corri con noi Luca prendiamo la macchina No non mi fido più di te che guidi Vado a piedi Stai zitto Guarda sono fortissimo E beh ho visto un pedone volare Non hai visto niente tu E' il desync del server Dado copiti quelle chiappe per favore E mai Non sei mia madre Luca visto che sono velocissimo Io sono già arrivato Tu dove cazzo sei Coglione Questo va a piedi Questo pensa di fare il figo andando a piedi Ma chi cazzo ti pensi di essere? Te lo mostro io come sono a piedi Ecco i miei piedi Dado Oh no E' partita la missione Pensavo di essere morto Anch'io Come si schippa sta roba? Esco Ok non ci interessano i filmati Amici mi confermate che l'audio di gioco è alto abbastanza Perché lo sento abbastanza tanto basso Io penso che non lo sento Da me non c'è Vai vieni Luca No no vieni con me Fa un'altra cosa Vieni Luca Vieni con me fidati Se funziona Se funziona Cosa ho visto? Non mi avrei visto sparire Devo andare al lattico Sì A me sembra giusto va bene Se fossi tua mamma sarei deluso di vedere mio figlio con le chiappe nude verso strada No è disattivato il garage davvero? Ah Non c'è il garage dei velivoli? No No E niente allora Dado Finita ci buttiamo? Vai Sì Come sto padrone di seguaci? E niente Quelli non si buttano Dado No no Dobbiamo rivisciare la missione Ma perché io ascolto te? No non mettere in pausa Eh ma tu riprova Ah ok lo puoi fare? Sì Il problema belga Fallimento Dado l'auto però va bene Andiamo a uccidere il tizio Ma voglio guidare io Sì così ci schiantiamo Ma io ti sparo su Non puoi Va bene ciao Dado No Luca Eh aspetta mi fa inversione Ho quasi investito uno Io lo ammazzo Io lo picchio Cosa ho visto? Ma cosa sto vedendo? Cosa fanno i pedoni? Ma son qui Dado Ma non mi lasciano un cazzo Mi scelgo c'è un posto libero Ma mamma va culo Ma perché mi fai fare queste cose Pazze Non riusciremo a fare nemmeno una missione No ma questa missione è andata a salvare un russo come Posso dire immenso stile 2p Ti prego di rompere la testa di Luca Pisellate Dopo si fa il fight ovviamente Ah facciamo ora un'idea 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 dopo un'idea È la a fine live sì Ora facciamo sta missione in ogni caso Ma che cazzo di macchina abbiamo che spaziamo via le altre scusami tanto Eh non l'abbiamo presa No da me l'abbiamo da me ho volata via l'altra The Sink The Sims Vabbè Anche qui Questa l'ho presa Ok Posta Questa l'ho proprio presa Non ci passavo semplicemente Luca E poi sono io capito Eh no ho dato guida male Ho dato guida male Ma lo vedi il pedore sopra là Sì l'avevo visto non ho capito che cazzo Eh va bene Ma nel dubbio spara Sì no nel dubbio Ma cosa Ma si potrà Ma si potrà Ma io non lo so Aiuto Ma è morta Non lo so Perché Uccidiamo le guardie al porto Ho investito l'unico che non era guarda La macchina Aiuto E scendiamo va Eh ma che cazzo Io Ho i problemi di spazio C'è Kino Eh dove È là Là dietro Kino è morto Non hai capito C'è Kino è fatto di titanio Eh mira l'interno Potremmo avere un problema Dado Ma guarda Ti lascio fare amicizia col tizio Lì con macchina Cosa Cosa Dove vai Quello grosso Quello là Ho preso te tra l'altro Ho ripreso te Ma si è spostato il camion Ma che cazzo Ma beh Lo vedi Ma cos'è lo zombie di Life 4 Dead Ma che c'era come Vabbè ho capito Vuoi Aia L'ho polpato Non gli fa un cazzo il polpo Aia No Non l'ho fatto in tempo Ma è durissimo Gli ho lanciato una granata Dado Dado vattere LUCA Dado non volevo Luca aiuti il spacco Però l'ho ucciso Gli ucciderò prima Dado Di Degli altri Eh si Ok morti Ah Quindi la missione non è Da mazzo di botte Vieni qua Allora Dicevamo Ci sono altri due nemici Dado Fallisce la missione Non li vedo Due nemici che non vedo Saranno qua dentro No non ci si può entrare Dado Gli NPC mi stanno guardando male C'ho il culo all'aria Eh non vedo gli altri nemici Luca Perché non bisogna uccidere i nemici Bisogna attivare la bomba C'è scritto in alto a sinistra Però ora salva me se noi l'abbiamo perso Luca sei terribile Dado Luca sei uno scherzo della natura Dovresti ringraziarmi Altro che Infatti non ti ho ucciso Luca dove dobbiamo andare Qui dobbiamo Innescare il cavio che è metà esploso Sì no era già esploso Ma signorina Lei a parte che è il fisico di un uomo Però Fisico di un uomo dove lo vedi C'ha le spalle grandi Ah sì Senti A parte stai uccidendo me Ma chi ti dice che non lo volevo fare Ma è mortale Sì no è durissimo Eh mi devi restare Allora dobbiamo andare alla fabbrica Mi devi restare Dado Voi sentite qualcosa amici della chat Perché Sento dei rumori Ho sbagliato Ora apri il telefono e lo chicco Tanto la partita è la mia Ma che cazzo sto vedendo la telecamera Eh l'altro fa Lascia stare Già tanto che non ti abbia inquadrato il culo Cosa? Perché abbiamo il culo di fuori Non fare domande Io sono scheletro dopo che si è dato alla droga Comunque Chi ma Vuoi vedere il mio cuore Chi ma Here's my cuore Luca hai finito di spararmi Perché avresti anche ruolo il cazzo Eri in mezzo Eri in mezzo Ora se ti becco ti do fuoco Quindi non passarmi davanti Io non sento nulla Ma so che dopo dovrò lavarmi Voodoo In che senso non senti nulla Ah ok No Hai finito E ce n'avevi uno accanto Ma c'è bisogno di dargli fuoco E' eccessivo Sempre eccessivo O questa O questa O i colpi esplosivi Scegliete quali fa più male Guarda Il trucco E prenderli a pisellate Lo ha visto Il bestione con lancia fiamme Che gli sta andando in culo Mi sa di no Luca Ti fai cazzito Sa che non l'ho visto Esatto Ecco sta venendo da me E qua Viece Viece C'hai paura? S'ha andato No Mi ha dato il fuoco C'hai paura del mio pisello Viece Viece Aspetta arrivo anch'io Anch'io il pisello Vai Aia Luca forse il pisello Non è l'arma migliore No Sono morto Non morire Tato Non morire Tato Tato Vai Tato Dai Dai Io credo fermamente Nei miei ideali Cosa ho visto Luca Si io dico che lo uccido A pisellate Io lo uccido A pisellato O muoio Provandoci Con il pisello In mano Sì Sono passati 20 minuti E non abbiamo fatto un cazzo Luca Sono affari tuoi Sono caduto Cazzo Sono a terra Aiuto Non si rialza Ok E beh Guarda il culo in faccia Con quei pantaloni Deve essere tanta roba Un po' con sto caldo Sai che puzzo Ma dai la fa fresco Dai Ah tra l'altro Uno dei dlc Che ti ho regalato Ah me la fanculo Fai lo scudo Prendi come scudo umano qualcuno E premi F Quindi lo uccidi Gli succhi il sangue come un vampiro E ti fuggi la vita Ah Una cosa per niente Dove cazzo devo andare Sopra Dove ci attacca il bestione Ah da qui Splosa roba Ma perché c'è un tizio Si è lanciato Oh ma questi C'è spare No E beh Che sei fatto E gli siamo entrati in casa Ho capito E gli abbiamo piazzato una bomba Sopportata Eh vabbè Ma io vi ringrazierei Ok bastava mirare A le tanniche di sto coglione Comunque Si lo so Non c'era bisogno di Di prendere la pisellata Luca io ti ammazzo di botte Mi sei passato davanti Eh mi sei passato davanti Non mi raviando Quando ti passo davanti Ti prendo a gomitate sul naso Oppure ti do fuoco io Guarda quanto sono brutto Voi non vedete No voi vedete solo He-Man Sotto effetto di eroina Si va bene He-Man Con la censura La censura Mutanda Ovviamente O di spruz Is elevator Tanto ti faccio notare Come il culo Non sia censurato E quindi non posso farlo vedere In live Non credo Tienitelo sempre davanti Ah Indietro Tienisco le gomitate per Luca Ma si ma si c'è posto Follow me Oh no C'hai il culo Fammi posare sto posto Ci metto il mio personaggio davanti al culo almeno Mi nascondo tra le piante E almeno non vedo nulla Vai 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 Cosa rider No è vero Ti sembri un po' costrider Così Pensi di più viola come Il tizio ti ha tipo dato fuoco Non so quante volte Ah ma io pensavo fossi te No, allora Io ho dato fuoco al tizio viola Lui si è passato accanto e si è dato fuoco Ma è un fazzolettino Lui dobbiamo uccidere Che è il tizio che ha ucciso Con una mira che vabbè Che cazzo è? Eh sì, sono successe cose Ovvero, dobbiamo scendere veloce Come fai a scendere più veloce di un ascensore? Ti attacchi a lampadaria e lo fai cadere Sì Appena fanno cadere i lampadari Uccidi quella Sì Tanto guardami perché non hai la mano attaccata Aiuto Meno male il grattaccello è alto Io non sono attaccato Ah, già Spara Lui è almeno vestito Trovati la tua palla Non so se hai letto Detto da due Nudi Esatto Dai, non ci interessa Allora, He-Man Buonasima I bowl He-Man C'è da fare una scelta C'è da fare una scelta Sì Facciamo esplodere l'edificio Che ci dà del rispetto O lo teniamo per noi Che ci dà il denaro Lo teniamo? Ovvio Aspetta, quale era il più spettacolare Da vedere il light? Eh beh, lo fa esplodere E questa scena si fa vedere Con delle esplosioni vecchissime Sì, no Sono poligoni quelli che sono Perché i lampioni sono donne? Ah, pensavo molto meglio Niente No, in realtà È orribile però Era la cosa Ah, ora ci si diverte Possessor PC Controlla la distanza I veicoli civili Oh E abbiamo come amico Olek Il gigante Controlla la distanza Oh I veicoli però Che non è che siamo tutta sta cosa Oh Posso farli schiantare tra di loro Come se fossero dei giocattoli Cosa? Oh Il filmatino Oh sì Vabbè Suppongo di sì Se te lo tengo o meno Comunque è figo E preferisco tenerelo Perché è figo Come base E niente C'hai detto tardi Arti Vergognati Ma no no Non ce l'hai come base Semplicemente Rimane nella mappa Così invece rimane un cratere Ciman Is that you? Io ti assicuro Non mi ricordo Questo filmatino Make you suck my bone He-man Ma no Perché questa scena orribile? Ma che cazzo è? Va bene Allora la macchina Non è fregato nulla Peppere Peppere Cazzo Chi manno? Ciutami il buono? Eccolo Oh no Eh lui è affichissimo È personaggio di Musa Lucia Questo Quanti È finita? No A quanto pare Siamo immuni ai razzi Siamo fortissimi? Trane quella macchina Trane le mie mie Ciao Mel Bentornata Bentornata Ora ci sarà una scena di un tamarro assurdo Stiamo giusto parlando di He-man grasso Che è il mio personaggio Saltiamo Non sapremo mai se ci ha colpito Oppure no Non mi ricordavo quella casting Mai nella vita He-man He-man Wanna see my butthole? He-man Look at my bone Allora Dobbiamo andare Non è vero Non dobbiamo andare di qua No no ma Guarda Luca Io ci vado in macchina Come ti faccio prima di te? Può darsi No Che cazzo è successo? Mi sono salito Perché non è più vita? Non ho ne idea Il presidente del liceo di mia madre Facce il cognome La marca Oh no Chi ha detto se conosce Giuseppe la marca Cosa fa? Sì Perché questo fa le cose? Ho lasciato molto No no ma ci credo No appunto ti dico Chi ha detto se conosce Giuseppe la marca Dovrebbe essere comunque sia Te di dove sei Suppongo sia Delle parti di Airo No? Aspetta Ho sbagliato l'ingresso Aspetta Allora Facciamo il giro Ma cosa fa questo? Dobbiamo Stare per bene Giuseppe la membrana Vai Entriamo Vai Perfetto Sono sceso benissimo Dove c'è stare Anch'io Ah qua si prende Kinsey È vero Entra nell'imbarcazione La faccio esplodere Sbagliato tasto Brum Brum Sali Luca Ci aspetta un lungo viaggio Brum 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 Mi piace che gli NPC Siano comunque saliti Tranne uno che si sta Copando uno Brum Va bene Dado elenco a tutti i nomi di una marca E ti ricordi per favore Giuseppe la membrana Giuseppe l'ambrusco tavernello Giuseppe la minchia Giuseppe la vacca Giuseppe la fava Giuseppe la marca No Giuseppe si è dato da solo Comunque va bene uguale È sempre da ricordare C'era Giuseppe la tortura di cazzo e palle Non mi ricordo No quello mi sa di Allora dobbiamo cambiarlo Cosa sei tu? Senza offesa ma una legata così Con noi due e io ho un Dildo in mano Con noi due con vestiti da BTSM E io con un Dildo in mano Sono già pronto io Signorina Sarà il prossimo fatto Tanto reggio Calabria immagino O reggio Emilia No No questa missione Non credo si possa far vedere Bene Salta il filmato Non è il filmato Non è il filmato il problema Leggi in alto Dove dobbiamo andare Facciamo vestiti giusti Esatto Ma lì quindi fanno la tortura di cazzo e palle Così È il posto per noi andiamo Sì Sì Sali Reggio Calabria Ok Solo con la next side non si può far vedere Neanche Rust Eeeh Oh So defensive Did I hit no? Shut up Luca Io mi devo fidare di te Sì Grazie Dazzo di creare il casino Tanto c'è mangiata la polizia Una figura Ti figura Ma non è come susciterare se sei in missione la polizia se ne fotte No Qui no Qui te la becchi Oh Dai siamo a casa Dado Siamo a casa Aspetta aspetta Luca Luca Non sono sicuro di voler entrare Io Dado Siamo a casa Piri 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 Dado Tu sei sicuro di Inquadro in basso e andiamo La risolvo Sì Mi ho sperato alle palle Allora La tortura di cazzo e palle Questa fa parte del processo Sì qua Dove Ah no Vieni TechStream Vieni ora Dove cazzo sei? Dove sta? Qui Vieni Dobbiamo afferrare i clienti Cosa? Afferrare il cliente Oh no Afferrare il cliente Leggiti il Oh no Oh no Oh no Oh no Ho risolto Questa cosa me la ricordavo È troppo bella Cosa? Ecco qui io rimarrei Se mi ti è avanzata Con i fuscili Dado Io rimarrei qui però Se non Con lo zainetto È perché il fatto che io stia ballando No Come stia ballando Saliamo su Dicevamo Le donne Nelle cabbie Un tizio è stato Maso L'uccido Qui non c'è nessuno Non Cioè qui dovevo entrare Ma non c'è un cazzo In tutti i sensi Qui è una stanza dove non puoi entrare Ci sono Lì il cazzo Non so se posso Oh no No Inquadrano solo Solo lei Perché lui non Penso di poter Mi spiazzo davanti Io mi spiazzo davanti Allo strumento qua No non sei abbastanza davanti Accovacciati Ma con un cazzo in mano Me lo dici no In fretto Facciamo in fretto Ok Ok ho risolto Eh un C'è arrivato qui Va benissimo Uccidilo Per favore Uccidilo Uccidilo O poco Benissimo Vediamoci Ok Allora Signor Twitch Questo qui è il gioco Non Signor Twitch Capito Questo si è già messo Dado 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 Non farlo Ovviamente se metti Prendilo Non ucciderlo È Lemmy Ragazzi è Lemmy Sento nel mio canale domani Mi saluto per favore Una stalla dei porti Abbiamo dato l'achievement Amor virile Giocassenzero Raincop per 5 ore Se ci sono piaccate 5 ore No perché la partita ne dura 2 2 e mezzo Allora Dobbiamo scendere Qua Poi qua E ma sparatemi al pisello Spara Ma che vuoi sparare Te vuoi sparare a me Comunque lei rompi l'osso del codo Non so perché non hai Il DLC attivo Forse devi Stalle bansicuro Interrompiamo la missione Facciamo un altro Salta 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 Eh beh Eh copriamolo Non si vede Copriamolo No Perché tu hai visto dove siamo finiti Vero Hai visto dove siamo finiti C'è nessuno commenta il fatto Che siamo oltraenati Quello che volevo coprire Ma perché esplode Non lo so Guardateli Per favore non si può Aero non si può Questa missione è probabilmente una delle più importanti Perché salvi Kingsley e Salta 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 Non possiamo Aero non possiamo Io lui non lo voglio in macchina con lui No Non mi fido Soprattutto dietro Comunque Luca hai avuto un assaggio di mirabilandia Ma perché un assalto manda Mi hanno tirato fuori Non mi fa più la macchina È perché hanno tirato fuori me Sei solo Aspetta No sentilo come parla È vero lui c'ha il sintetizzatore Perché Stavo per dire vibratore Stavo per dire vibratore Poi mi sono fermato No Dopo sta live sarebbe stato molto presto e divino Vedete è un uomo molto forte Basta cosa c'è Ti stai No niente Leva la radio Secondo me aero sarebbe perfetto Metavallus per buff Sì sì Buff air O è buff air Quel tizio non era Luca ti fidi di me No Vedi che curva Te le sogni Da me è preso in pieno Il guardrail In mezzo A non dire Da me sta ingroppando una macchina Zitto non è vero È Più che altro È la live giusta Ho visto uno volare fuori dalla macchina Non farò Mi rabilitando si va in carro Airushitraini Prova vestito in quel modo Per favore Sì sì Vestito alla Zimos Aero è appena stato vestito La carica di stallone Sei fiera di ciò Madò Tutto nel vlog ragazzi Luca Ho sbagliato scusa Mi dimentico che non posso altabbare Volevo chiederti se avevi settato il comando stream Sì sì l'ho settato il comando stream Amici Ti ricordo che c'è il comando stream No non posso vederlo Cosa c'è scritto Eh lo vedrai quando lo fanno E non posso altabbare per vederlo Sì però me lo dovete comprare perché mi hai li ho rotti I bicipiti o i carri I carri Faccio una pazzia Luca Faccio una pazzia Guarda come le superi Guarda come le superi Da dove va bene Luca ti piace il nostro paraurti Non esiste più Credo l'abbiamo lasciato su qualche pedone No no Quando siamo andati addosso A cosa che lava i pavimenti Da me non c'era già più Da me non c'era già più da un pezzo Luca ti piace la nostra ruota Sto sentendo raschiare qualcosa Dado Davvero? Non credo sia il mio cazzo Provo passare all'altra corsi Non è andata Dove? Dove cazzo? Dado esplode Dado fa bomba Dado Dado Come io mi sei allontanato E te mi sei rivenuto addosso Allora Diciamo ci serve una macchina No Luca Qui c'è una macchina forse Chiamo il tizio Aspetta No no Luca Non c'è bisogno Guarda No no ma ci faccio portare io la macchina Giusta Mi devo fidare? Non è niente Non mi dovevo fidare Le tue macchine da furri Non mi piacciono Luca L'hai vista? Ah si Luca ho questa Questa è tua Guido io No Lo vedi qua sotto Dado 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 aspetta Devo fare film Video Non muoverti Dado non muoverti Questo va diretto sul canale Fate guidare Dado Mi lo vede tranquillo Non ho la patente Purtroppo Aspetta Perché sono povero Aspettate Ora vi faccio vedere ciò che vedo io Guardate tutti Sul canale telegram Perché Ah si è sbagato Oh Luca ora mi fai guidare Grazie Ah tutto sfocato all'inizio Vabbè si vede tanto Ma perché c'è la polizia No hai emollato Hai emollato il pervertito Hai emollato il pervertito No vieni qua pervertito L'hai investito ora Magari gli è anche piaciuto Dove che sparo Raggi laser Scusa Forse entro fine live Riuscite a vedere ciò che vede voi Telegram Cialla Cialla Sono ridicosa Allora Io non so che giro devo fare Destra Destra L'abbiamo intuito Se ricordo bene Stiamo andando a casa Del pervertito Non sono sicuro Di volerlo fare Ah Dicevamo Stiamo andando a casa Potrei aver sparato A un benzinaio Dado Allora E il piano era And Dado Io Dado esplode tutto Dado sono rincaffrato Dado sono Dado Un vero capitano Non abbandona la nave Dado non sono morto Tanto c'è il pervertito Va a fuoco Questo è Dado 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 Chiamo un altro veicolo Non posso chiamare un altro veicolo Eh lo faccio io Lo faccio io Telefono Consegna veicoli Non posso Prendiamo quello Però guido io No Ti buco le ruote a forza di pugni Ti buco i pugni a forza di ruota Guiderò io Guida Marco e guida Mase Fanno metà Sì no succede la cosa Dado Quanto potrei vestirmi Se era fermo Scusatemi Dado Da me sei partito in aria Perché non va un cazzo Allora Questo veicolo Vieni Luca Eh ci sale Zimox Questo è qui Eh musica levati Ok Zimox ha preso l'altro veicolo Realmente guida meglio di Dado Per fare manovra ci vuole 30 anni con sta roba Questo c'era Dado Capito Uccidi l'uscitore Come? Cosa? Non siamo nemmeno arrivati Vedo un bestione Dado Vedo roba esplodere Dado Sì no anche Vedo gente Ciao Darko Darko ti sei perso roba Recuperati la live Eh Il bestione Il bestione è stato investito Dado Sono fortissimo Non da te Questo veicolo mi fa cacare Vaffanculo Comunque sia Mel Se vuoi Se vuoi avere un assaggio Di quello che sarà Mirabilandia C'è il nostro vlog di Milano Nel canale YouTube Che adesso il buonario linkerà Mi si È accesa la luce Il vlog di Milano Basta cerchi tipo Cartumix Una roba del genere Lo trovi Ok Google Spegni la luce Ma perché questo Fare cose da ricco No perché Il dispositivo luce Luca Non è disponibile Come scusa Ah mi si sarà Sì si è spenta Questa patente guido benissimo Non posso fare i fitti Allora Sì Credo che abbiamo finito Ci sono i tizi lì Ci sono i I minioncini Ah no Non siamo a casa del pervertito Siamo a reclutare un altro Il wrestler Ah Ce l'hai i pantaloni Questo qui Ha delle mutande Sui pantaloni Però ha i pantaloni Eh a me non è quello Nudo Quazia Dado Leggi Telegram E leggio Telegram Adesso Ok Google Ok Google Spegni la luce Grazie Sì Amici Dopo di questo Ci sarà una notturna Mia Di Marco Cercello Nato a Brindisi Centrale Ah no Questo è nostro Quindi mi raccomando Siateci Una nuova serie Tra l'altro Non sarà solo Rocket League Incredibilmente Porta le forno Finalmente Sì Sì Tanto dopo la live di ora Quindi mi raccomando Verso le 11.30 Venite qua Che saremo tutti qua Eh Marco Mi devi dare tempo Di riscaricarlo Dopo la live Quindi 11.30 Se ti va bene Sì Però voglio sapere cosa Lo vedrai Nuova serie incredibile Mia di Marco È venuta in mente Ieri notte Mentre Guardavamo First Man Tra l'altro Eh ok È giù corto Sì Ragazzi Luca L'altro giorno fa Ragazzi Sì ho tre schede Ho tre schede aperte Su Chrome Ma ragazzi Questa scheda è nera Però l'indirizzo è di Pornhub Sì è vero Ragazzi Luca Sera Mentre scriveva Pornhub Gli è passata la libido Tutto insieme Quindi non ho più fatto niente Ma sto tizio mi segue Sparagli Sparagli Eh sparagli 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 nel culo Ormai son preso troppo Dalla Dall'ambientazione Della live Sparagli nella schiena Se vuoi finircelo Ah Eh Marco Vediamo Però si fa con le web Mi sto per morire Luca Non so come dire L'ho ucciso Luca Perché? Ti è esploso in fac... No è stato lui eh Ti è proprio esploso lui in fac... Quindi mi raccomando tutti Dopo la live Che c'è La notturna Non ci interessa il film Oh abbiamo finito... Quanto siamo efficienti Luca? Poco Quanto siamo deficienti Luca? Tanto Arma penetratore Ma ce l'avevo già... Ma ce l'avevo già un bel pezzo Se non l'hai comprato ora te lo regalano Ora puoi avere i pervertiti della tua gang Dopodiché una giornata ideale per darsi fu... Oh oh Bambini Perché non prendete un po' di benzina e accendete il gas? Oh 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 Bambini Dado Dado Bambini La vedete quella siringa per terra nel parco? Infilatevela nel braccio Non so se stai buono Masochisti Masochista uno No ma stavo facendo Ma stai buono Luca 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 cosa sto vedendo? Eh non lo so No Luca Oh no Ho paura Oh no Guarda un attimo in live eh No ma togli la pausa Eh scusate dovevo vedere anch'io E niente Con sti vestiti Tirami su se no Tirami su Eh vabbè attacco epilettico c'è qua Fammi finire di Fammi finire di mettere i masochisti Oh no certo certo Mancherebbe Non ti toglierò mai i tuoi masochisti Stile Masochista due Stile Masochista tre Stile Masochista quattro Perfetto Ora se vai in giro Trovi dei masochisti Si E ti dirò di più Ma porca puttana Ti ho risparmiato Io Intanto non dò un bel copio del gatto Quindi Benissimo benissimo Esci Ma io voglio uscire da dove sei uscito tu Luca Fammi entrare Dattimo che non va giù Va bene Faccio da solo Allora questo Questo e questo Amici quale scegliete Luca stai fermo Stai fermo Qualcosa ti blocca la strada Non avvicinarti Togliti dalla pista Ok Amici quale scegliete Saints Vtol Ultro Interceptor Salem È vito Salem è la scopa D'Harry Potter È la scopa Sì Cosa Vieni a scopare Dai Oh no Tanto ormai Questa live Amici ditemi voi No ho scelto Que Tranquillo Risolvo io Salem Come si scende Con la E Ma Vai sopra la pedana Tanto Cosa ho visto Cosa ho visto anch'io No dicevo Salem Sì Preq Ma Qualcosa ti blocca la strada Vattene Come Ma è bellissimo La guidi come un elicottero E se premi F Invece come un aereo Ma è spettacolare Tanto li senti suoni Un pochino Sì Cioè Si è fermato un attimo C'è un giro della morte ragazzi Harry Potter non ha mai fatto sta roba Ma puoi fare il double barrel roll Guardate sto per vomitare Non lo faccio più Scusate Eeeh La visuale Cos'è questa statua C'è un stato È la statua della libertà Più o meno No Non Che poi è bellissimo Perché sto volando Ma c'ho le chiappe dal vento Deve essere una sensazione incredibile Comunque dato Non puoi scocciare Ma ricordate Cazzo Eh no Non è che scocci Mi fai un favorone Perché se mi bloccano L'audio della live Stemmio fortissimo Eh sì Questa live sì In realtà non credo Se sia più copyright Dada Ma voglio Che Entro dentro Sono i 50 A fare una missione Non ce la facciamo Vediamo se però Riesco ad andare In un punto Molto carino Ah forse Ti ce l'ho già portato Aspetta Ti raggiungo No era No non ti ce l'ho portato Incredibile Arrivo Arrivo Come si va più veloci F Come si va ancora più veloci Poi È lentina la scopa Sì vedo Aspettami Sì sì te raggiungi mio Oh ho trovato delle bambole Ah quanto è rilassante Però su questo volo Ah Guardala Se non fosse per le chiappe In mezzo alla faccia Non Ho trovato un collezionabile E voi cosa è nato Harry Potter L'avete mai visto Volare col culo all'aria E non credo Pensa io sto vedendo Uno volare col culo all'aria E con un gattino rosa Sulla schiena È vero È molto Non so perché non c'era lo zainetto Non lo so Non te lo sei comprato Tanto dove ti porto ora Non ti servirà lo zainetto Mi porto al club forre Ci sono le for suite Mi sono toccato spesso Su Harry Potter Su quello di Harry Potter Ti direi di no Ma credo che con l'espansione Qualcosa di simile ci sia Beh c'è Genki No C'è il dottor Genki E mister Scusa lui Vabbè Dopo io che dico Canondorf In realtà Che cazzo No mi schianto Ho sbagliato Non era questo Era di qua Che liscio Mamma mia ragazzi Queste sono trovate Queste cose Ve le sognate di notte Mamma mia No Questo è un planet sane Che palle I'll take you where the magic is Io non sto vedendo Nemmeno cosa sta facendo Dato Ma sono sicuro Zitto Non Va tutto bene Un'attività gang Eeeh Guardala Guardala che friso Guardala Disastro mancato Te lo dice anche il gioco Peccato che non sia come su Su Starfox Che mi fa fare i barrel roll Non è vero Non è questo Do barrow Do barrow Do barrow Luca Luca E niente Devo Dado Però ho trovato il negozio Luca Arriva Non so Non voglio sapere Cosa è successo Mi sogno buff Dado La notte o no Che poi tra l'altro Non vorrei mai essere buff Perché mi si sformerebbero i tatuaggi No 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 mi ha buttato a terra Dado da me se con metà corpo Per favore Per favore Luca Luca no Luca Luca Dove sei morto Dove sei morto a metà del pavimento Però sei vicino al negozio Sicura Acquista ospedale Acquista ospedale Ma sì dai Ah Non ti dici nel dubbio Acquistiamo un ospedale Ci serve Tutte siamo morti Ammazziamo lo sbirro Luca finiscilo Ma sei da solo Ma sei da solo Per favore vieni qua Dado vai al puntino che ho segnato Non hai segnato nessun puntino Vieni verso di me Aiutarmi a finire il poliziotto Dado vieni verso di me No io lo sto appoggiando Non voglio sapere Io lo sto Lo sta sentendo tutto Luca Dado Luca Non voglio sapere Dei tuoi fetich Quei poliziotti Luca per favore Però se sei buff È più semplice mettere Mattonella Con te è vero è vero No è più semplice smontarle Più che altro Guarda l'è già istruita Sui memini Ben Ben è così Ben è così Bravissimo Luca Sto richiedendo aiuto Per favore Eh aspetta Voi non mi avete visto Voi siete nemici Nella mappa Ma non Tranquilli È mio amico Io lo sto Poggiando Mi sto facendo sentire Quanto Sono Cresciuto E Questo Signor Twitch Non è assolutamente Un atto Sessualmente Esplicito Nel meme di questo post No È Marco Cercello Il meme di questo post Ecco appunto Perché si parla di mattonelle Ecco Marco Tu non ti preoccupare Non è assolutamente Non è assolutamente Scella Mi faccio le fan art meme Per favore Falle le fan art Mi metterei a piangere Eh Luca Sta arrivando Per favore Questo polizioso Da tre quarti d'ora Ti sta rompendo il cazzo Anche lui Mi ruberò il post Arriva Ciao Lui è mio amico Si chiama Bob Oh no Come cazzo hai vestito Ma come cazzo Non te era meglio con la maschera Almeno tu si vedeva la faccia Entra in macchina Vuoi appoggiaglielo anche tu Oh no È lui che te lo può Oh Ho capito Sei passivo Sono molto Non farlo Non farlo Non farlo Non farlo Non farlo Come il poliziotto Sia sopravvissuto Vieni Sali in macchina Ti porto in un posto magico I'll take you where Ma Dado sali in macchina Dado la macchina I'll take you where the magic is Perché hai l'eroe Dado Ah non fatici sulle mattonelle Sì io Sì Non posso dire cosa ci faccio Però sappiate che La L'ONU mi ha mandato un ultimatum Luca Dovevo mettere nel negozio dove appena esplosa la macchina Lo compriamo? Ma sì L'ho già comprato da me L'ho comprato io Da me hai già comprato Ma va via dal mio negozio Fuori dal mio Negozio Ma è svenuto Amici Il vostro sogno era vedere Luca in Fursuit Sì Se in seno Ho tutto Ho tutto Sì L'ho detto che lo trovava Cazzo Te l'avevo detto che lo trovava Quindi il rischio coma etilico è alto Dado Io ora faccio una cosa che non dovrei fare Lo so già Dado This we are mom It's not a face Non rinco i persetti Vorrei commentare ma facciamo dentro Luca quindi facciamo le cose in full suite Aspetta un attimo Tu non dovrai Tu Verrai stupito Da ciò che stai per vedere Dovrò chiudermi a chiamare camera Per vederle Mirabilandia intensifies Io non vorrei dire ma se metti di lato Il perizoma non copre abbastanza No no io ho messo la candela come censura Hai fatto benissimo Allora voglio andare un attimo a comprare Dado Sì Abbiamo un problema Sì tu hai un problema Io non posso andare in giro così Ci chiudono la live Anza è saltato Unsup Emel ti ricordo che se non le vedi in live l'unico modo per rivederle sarà purtroppo Sabbar Perché sono live Perché non possiamo tenerle su twitch non peraltro Non perché siano teste di cazzo ma perché non possiamo tenerle su twitch Noi possiamo ricaricarle su youtube tantomeno Allora Allora Voglio portarti a Fare un'ultima cosa Poi mi sa che abbiamo fatto Sì Voglio portare Ah questo potenzial Eccolo Ah ma ce l'abbiamo già vabbè Ma sì ma sì compra compra vai butta giù Aspetta che ho finito i soldi eh Anche io Eh se vai in tab in basso denaro te ne da A me me l'ha dato 24.000 Ho risolto il discorso dei soldi Denaro Ah 15.000 Post Avrò quelle live Mancano 4 giorni Aspetta cosa Cosa Boh me l'ha detto mancano 4 giorni Luca Ti sfido a duello Vieni qua No Prendi il pisello Ti mostro io il duello a cui ti sfido Oh no 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 non è giusto C'è una rotata Luca prendi il dildo Ok uso la macchina della pula Sono saltato altissimo A mio twitch prime mamma mia Mel Bellezza Ok Luca prendi il dildo Vieni qua Non colpire Vieni mettiti dritto ecco Facciamo 10 passi Indietro Ok Anzi no con la pistola Guarda Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Sono più di dieci passi secondo me Mi Mi Trovengo lì a menare Mamma mia se ti spacco i denti Vieni qua Questo bar Questo bar Questo bar Guardalo 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 Tutti sono esplosivi Accanto No un te Nel tubo Amici la live di oggi è finita La live canonica È finita Vi ricordo Noi siamo in live Cosa quando siamo morti È nulla Ci vediamo fra poco Ciao amici Ringraziamo tra l'altro Kirito Zzzz per il follo E Taishi Per il raidone Quindi ciao amici A dopo Ciao